Per quanto riguarda le fasi della spesa di un ente locale, gli articoli sono disciplinati dal testo unico degli enti locali 183 e seguenti, rappresenta un momento dove si espita l'attività dirigenziale in quella definizione che è data dall'articolo 107 del TUEL, cioè i dirigenti impegnano, ai dirigenti spetta l'assunzione degli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno e in particolare gli impegni di spesa, sono l'impegno di spesa, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Nella prima fase ci sono dei concetti fondamentali da tenere in considerazione, il primo è che a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata viene individuata la ragione del credito, la somma da pagare, il vincolo sugli stanziamenti di bilancio e la scadenza del pagamento. Bisogna tenere conto, secondo quanto stabilito anche dal DLGS 118 del 2011, l'armonizzazione degli enti contabili, che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, passive dell'ente, che determinano impegni di spesa, devono essere registrate nelle scritture contabili quando sono giuridicamente perfezionate e imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Questo è importante perché non devono rimanere nel bilancio obbligazioni giuridiche che non siano venute a scadenza. Un altro articolo fondamentale per l'assunzione degli impegni di spesa è il Centro Mantuno, per il quale dice che gli enti locali possono effettuare impegni di spesa se è attestata la copertura finanziaria. Qui entra in gioco il responsabile del servizio finanziario che incontriamo nell'articolo 153 del Tuel, il quale è preposto a rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Parere e visto sono due cose diverse perché il parere di regolarità contabile si può individuare nella fase istruttoria per quanto riguarda la determina di impegno di spesa, mentre il visto è da considerarsi nella fase integrativa dell'efficacia. L'impegno di spesa diventa esecutivo, meglio, gli impegni di spesa dei singoli dirigenti e dei singoli responsabili dell'ente locale trasmettano gli impegni di spesa al responsabile del servizio e diventano esecutivi con la posizione del visto attestante la copertura finanziaria. Lo stesso articolo 183 per quanto riguarda l'impegno di spesa è questo qui, 183,7. Nelle fasi di liquidazione e ordinazione i documenti e le determinazioni di spesa vengano inviate al responsabile del servizio che ne controlla la legittimità appunto attesta il parere di regolarità contabile e appone alla fine il visto di regolarità contabile che rende esecutivo l'impegno di spesa. E poi abbiamo appunto i mandati di pagamento che poi andranno trasmesse al servizio di tesoreria, cioè alla banca dell'ente locale che gestisce le entrate e le spese dell'ente e il mandato di pagamento dovrà indicare appunto la causale, la codifica di bilancio, la data, indicare l'esercizio finanziario, la codifica SIOP, le particelle elementari agli articoli 5 e 6 del DLGS 118 2011, la data e appunto alla fine l'impegno di spesa divenuto esecutivo poi appunto potrà essere trasmesso al tesoriere che poi provvede ad effettuare i mandati di pagamento per conto dell'ente. Servizio di tesoreria appunto articolo 208 del TUEL è la banca che viene scelta con determina contraria da parte dell'ente e che gestisce i pagamenti e se così possiamo dire i flussi di cassa per conto dell'ente. Quindi le fasi appunto ripetiamole impegno di spesa, liquidazione, ordinazione e pagamento. Grazie. 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 Grazie.